ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su doom and destiny worlds sviluppato dagli heartbeat interactive un team completamente italiano e se non ricordo male composto da due persone che poi forse si sono anche espanse ma riguardo a loro hanno già realizzato doom and destiny che ho portato nel 2015 nel maggio 2015 quando ancora avevo la sigla la primissima e poi sono usciti con doom and destiny advanced e ora doom and destiny worlds tra l'altro questi heartbeat interactive stavo anche pensando di proporre una piccola intervista dato che sono degli sviluppatori italiani che hanno realizzato un gioco più bello dell'altro perché hanno tutte le recensioni davvero ottime su steam che cosa in caso poi mi farete sapere se può interessarvi un'intervista con qualche domanda insomma questi sviluppatori poi se gli sviluppatori vedranno questo video magari potranno comunicarmi con sotto nei commenti o via mail se sono d'accordo allora che cos'è beh diciamo che è un gioco sviluppato un pochino su quello che è una grafica che ricorda molto rpg maker come lui anche primo titolo ma con l'aggiunta di una forte componente survival praticamente si gioca con una combinazione di tasti un po particolare perché stile gioco orientale in pratica con le frecce di azione per muoversi la x e la z per azione e aprire l'inventario la s per interagire diciamo con l'inventario del personaggio e di che cosa parla come anche doom and destiny base il primissimo gioco uscito noi avremo una serie di amici da cui francis mike nigel e poi ne manca un altro che dobbiamo liberare potremo insomma loro sono dei dei nerd ed è bellissimo anche il modo in cui hanno le battute che fanno durante durante il gioco lo vedrete e questi nerd nel primo titolo giocavano dungeons and dragons e poi finivano per ritrovarsi in un'avventura giocata nella realtà loro si sono svegliati invece su quest'isola questi insieme di isole in realtà perché se premiamo m possiamo vedere dove sono le isole al momento ci viene detto che possiamo andare a est o a ovest io sono partito questa isoletta qui qui ho trovato un castello dove c'è il nostro quarto amico intrappolato e lo vogliamo andare a liberare per il momento io ho castato perché vi dicevo una forte componente survival in quanto dobbiamo castare vedete abbiamo la possibilità di castare armature elmi armi e possiamo fare anche un piccone tra l'altro che vorrei farlo perché il piccone ci serve assolutamente ne facciamo uno solo sì e anche un badile ok è un po macchinoso e devo ammettere capire poi come andare a selezionare l'amico con q e v e dargli un'arma fargli equipaggiare un'arma nello slot veloce tra l'altro io non vedo dove ho messo il piccone e l'altra cosa craftata quindi dovrà un attimino cercare di di capire come funziona disequipaggio vabbè qua possiamo mettere tutto niente abbiamo castato e niente ci muoviamo con tutti gli amici perché ci muoviamo tutti gli amici perché possiamo andare a combattere è un gioco che fa un uso ampissimo di umorismo nerd ci sono questi goblin che sono vestiti da gabbiani stupendi si può saltare vedete salta in automatico in base a dove ci troviamo e possiamo andare poi ad abbattere le varie cose usando eventualmente il piccone quando quando ci serve devo capire ancora esattamente come equipaggiare ma comunque non è questo che volevo farvi vedere volevo farvi vedere il combat il combat vedete parte così il combattimento dove possiamo fuggire col cento per cento di riuscita oppure andare a combattere in basso vedete che ci sono quei fulmini e poi la vita in pratica il fulmine è una sorta di armatura dove in questo caso noi andiamo ad attaccare i due pinguini si è unito come rinforzo anche il pinguino che c'era di sopra vedete attacchiamo una volta che li buttiamo giù usiamo il potere questa volta li diamo una ammazzata li diamo ammazzata all'alto così li butta in giù tutta la protezione a questo punto loro hanno un punto ferita solo quindi ne attacchiamo uno e vedete che in questo caso lo uccidiamo istantaneamente l'altro ci fa ci abbatte il fulmine ma non ci toglie ancora punti vita quindi il gobbiano essendo italiani in che l'umorismo risulta più più riuscito insomma che una trasposizione da un'altra lingua e poi perché si lamenta di continuo che non ci sono giochi in lingua italiana questi sono dei grandissimi perché questi sviluppatori perché sono veramente fanno un uso umoristico veramente eccezionale dobbiamo liberare il nostro amico l'ho nipotizzato che per liberarlo dovremmo costruire o un ponte o una scala di mattoni in realtà non so se si possa effettivamente fare una scala di mattoni però in questo caso facciamola la passerella allora adesso cerchiamo di capire che io ammetto di non saperne leggere né scrivere nel senso che non ho mai provato a piazzare un oggetto vediamo come funziona questo in questo caso lo usiamo vedete che lo piazziamo lo piazziamo e siamo da lui quindi lo abbiamo effettivamente liberato iniziamo ora a darci un'occhiata in giro gagliardo posso vedere lontanissimo mi segno tutto sulla mappa abbiamo visto altre isole fantastico abbiamo dei libri che possiamo prendere un ambiente estremamente interagibile vuoi spegnere la fiamma e gli oggetti si usurano adesso dovessi ti liberiamo la cavalleria arrivata ok abbiamo trovato un altro fallo il fallo una volta che poi noi andiamo a dormire vedete quel ramo sulla sinistra dopo la colonna apparirà una mutanda insomma che farà da bandiera era ora ma chi è da lamentarti guarda questo posto ti sei sistemato per bene mai che abbiamo dovuto dormire per terra è per caso la minima idea di quanta sabbia ho nelle mutande questo è johnny detto anche il johnny se come dicono all'inizio e voi avete idea di quanto sia stato nervioso per me qui non c'è nessun segnale internet wow tutto questo tempo senza meme donnine nude come sei sopravvissuto è stato molto duro non nel senso di durer cambiando discorso com'è il mondo là fuori dove siamo finiti ora fuori strano isola abitate da goblin verdasse travestiti da animali e la frutta è stramba non l'ho mai visto frago alla forma di cuore un miettili così grosse succosi ricordiamo che loro si sono ritrovati qui senza motivo ci sono goblin vestiti da altri animali vale ci ho provato al mio conoscenza dell'astri non è anche non riconosciuto nessuna stella e che cacchio nemmeno lo san maggiore tutte quelle puntate che anni guerriero non ti hanno insegnato nulla mi hanno insegnato a far esplodere la gente nulla da fare per l'astronomia va bene e se fossimo sud dell'equatore nell'emisfero sud il cielo diverso è sì e come ci siamo finiti nell'emisfero sud non è una cosa che ti succede per caso fosse tutto un sogno un'illusione o siamo fattissimi o siamo dentro matrix va bene l'ultima cosa che ricordo è una partita di qualche gioco a casa di benjamin di n qualcosa non riesco a ricordare doom and destino è che il nome del gioco alla fine non credo proprio quello proprio un gioco da turbo nerd siamo più ficchi di così forse era quell'altro quello famoso con draghi eroi sotterranei zappi di trappolo e ammazza parti scommetto che la colpa è di mike sei sempre tu a fare casini cosa stavolta non è colpa mia sei tu quello che agisce senza pensare le conseguenze come quella volta che hai fatto un patto col diavolo saranno i titoli precedenti l'ho fatto solo per far risorgere risorgere johnny quello sveglione si era lanciato una palla di fuoco sui piedi per liberarsi di uno sciame di api killer ho visto scene simili anche quando facevo il master il dungeon master e uno sciame di api infatti l'ambientazione con questi amici nerd mi ci rivedo un pochino perché l'ho fatto anch'io quelle api hanno grosse come topi scusa mi hanno usato la testa gente state confondendo la fantasia con la vita reale beh dopo tutto è stata una partita vincente e tecnicamente è successo davvero anche se solamente nelle nostre teste durante una sessione di gioco già in un gioco da tavole dai concentriamoci certo nonno un momento ma se stavamo giocando gdr da tavolo dove benjamin il nostro game master cacchio ragione dove benjamin ci siamo dimenticati del nostro game master siamo dei pessimi giocatori nessuna traccia indizio da dove possiamo iniziare a cercarlo controlliamo di sotto ma non c'è ancora guardato ovviamente non voglio dire che cosa ci aspettava lì sotto non c'è andare certo in modalità giocatore singolo ok intanto è diventata notte vedete c'è il ciclo giorno notte nel mondo se proprio no pensa quanta expa avresti fatto da solo allora io ho un pensiero che è un bel pensiero per questo titolo per questi sviluppatori ed è il tool bisogna saperlo usare perché a videogiochi il tool che è stato usato per questo gioco ma saputo usare delle potenzialità pazzesche e il fatto che abbiano al terzo diciamo gioco abbiano aggiunto così tanta roba il ciclo giorno notte il survival all'usura degli oggetti un umorismo sconfinato veramente questa gente eccezionale quasi potrebbe dormire se ci fosse un letto perché mi piacerebbe far passare il giorno magari c'è qualcosa io non ho però onestamente ancora capito come funziona il discorso dell'inventario perché ognuno vedete che ha delle caratteristiche la forza la destrezza il carisma la saggezza e ognuno di loro ha dei punteggi diversi poi abbiamo anche craftato abbiamo anche craftato macete a questo un bug perché non si vede cappello di fiori felpa col cappuccio è un po bagato e disequipaggia si in effetti questo è un bug magari poi badile si infatti c'è un bug qua vabbè spero poi se gli sviluppatori lo vedranno allora vabbè allora vediamo un po la forza la do allora il johnny mi equipa allora li passiamo a scusate adesso faccio tutto piccone di legno equipaggia al johnny ok poi mike si piglia il badile di legno dai a mike ok adesso passiamo a mike che ha il badile di legno equipaggia ah potevo farlo direttamente senza starvi a passarlo vabbè johnny no non ce l'hai tu macedonia eh si macedonia uno di loro dovrebbe essere ferito no è lui si infatti prendi la macedonia usa vedete che c'è il cuore qua se vedete il mouse sul cuoricino 4 su 5 usa su francis ok abbiamo recuperato la vita no non capisco chi ha il vedete poi c'è il crafting la possibilità di creare no è strano mi si sia mi si sia buggato tutto l'equipaggiamento così mike felpa per tel badile di legno ok no il badile ce l'ha voglio dare un'occhiata anche all'ultimo johnny johnny gli avevo dato il piccone si ce l'ha ce l'ha ok abbiamo tutti equipaggiato qualcosa ma un po di figa no eccezionale vabbè scendiamo di sotto dai vediamo cosa c'è uh bello buio wow è buio pesto qui dentro abbiamo davvero bisogno di una torcia o qualcosa del genere perché poi dobbiamo conoscere le ricette per poter craftare le cose non si vede nel ceppo però vedo degli occhi rossi cacchio è questo si sta muovendo il buio ma andiamo un po a caso ma non c'è niente con cui interagire ma ci serve una torcia si vabbè ben già capito ma non non ce n'è eh no ci serve luce cioè dobbiamo fare una sì abbiamo capito niente dai andiamo su vediamo se riusciamo a fare una torcia o qualcosa perché eh vediamo crafting accessori niente allora adesso mi prendo un po di tempo andiamo a vedere se c'è modo di craftare la torcia in qualche modo o facciamo passare il giorno vediamo dovremmo riuscire adesso vedete che eh c'è un forziere di là questo l'avevamo già aperto infatti vedete che non c'è dentro niente eh no voglio intanto lui poi salva dobbiamo salire lì in cima e magari gli piazziamo delle delle pedane piazziamo delle pedane qua va tanto ne abbiamo traiente ne abbiamo un sacco quindi possiamo andare anche a piazzarci delle pedane uno due no ah e vabbè vabbè apriamo abbiamo trovato prendi anche delle fragole e poi abbiamo un forzierone allora abbiamo trovato eccola lì le istruzioni per farci la torcia che non va in inventare ma va nell'elenco ovviamente delle nostre risorse nelle nostre scusate delle nostre ricette che è qua sotto qua potete vedere tutto ricettaio tutto quello che si può fare per i vari oggetti possiamo allora semi di crottolone ok no no dovremmo ottenere il carbone ma io non ho proprio la minima idea di come fare fargli vedere chi comanda va beh allora andai andiamo possiamo distruggerlo questo no mi mancherebbe il carbone per poter fare la torcia crafting armi torcia carbone il carbone come cacchio si ottiene facendo una fornace ma io voglio capire adesso vedete che abbiamo una serie di di cose che possiamo fare col tasto Q e V con cui possiamo scegliere io voglio e purtroppo ripeto mi si è baggato il personaggio piccone lo metto disequipaggio e glielo do a Frensis li do tutti a Frensis a sto punto dato che funziona male il tutto il concetto allora disequipaggio e lo do a Frensis ok ora Frensis che ha il piccone equipaggia il piccone ok quindi equipaggiando il piccone dovremmo poter scavare infatti e magari troviamo anche un po' di un po' di carbone no stiamo trovando solo roccia conchiglia no allora vediamo un attimo abbiamo trovato 26 pietre no niente carbone il carbone lo cercheremo con calma vediamo se riusciamo a tanto si sta consumando tantissimo che è praticamente già rotto ha trovato il carbone finalmente quindi possiamo craftare la torcia uno o no mi pare ne servisse di badile di legno no dai ascolta passalo lo passo a Nigel perché mi serve uno spazio in inventario un fermifero beh diamo un'occhiata tanto è un gioco da giocare assolutamente senza fretta perché ovviamente come vedete ci sono tante cose da scoprire tante cose che magari vi bloccheranno al momento vabbè accendi queste se avessi un oh l'ho spento sono un pirla era un falò vabbè allora diamo un'occhiata adesso se si può fare un fiammifero crafting fiammifero l'ho fatto ah ne ho fatti otto fantastico quindi scusami ma se io adesso vengo qui lo accendo uso un fiammifero ok abbiamo acceso quindi no assolutamente no ah qua possiamo dormire cucinare spegne il fuoco dormi ok ok dormiamo fino alla mattina intanto dentro cioè abbiamo preso come fare una torcia no scusate ma crafting accessori fiammifero armi e la torcia eh ci serviva la torcia mica l'altro vabbè allora niente mi sa che a questo punto dobbiamo tornare indietro dobbiamo tornare indietro perché dobbiamo andare a fare eh beh intanto vediamo se abbiamo un modo di trovare dell'altro carbone stiamo usando la pala adesso è un peccato che si sia buggato così il il cosa qua anche perché eh mannaggia dovevamo eh no dovevamo con la pala si possono spostare i sassi e e poi eh è possibile anche passare da un oggetto all'altro ma purtroppo non sono visibili ehm anzi voglio fare una prova adesso voglio fare una prova facendo un salva ed esci vediamo se risolve risolve la cosa salvando e ripartendo magari risolve il il bug del degli oggetti invisibili ma direi di no macete macabro eh no dovrei andare a vedere un attimino personalizzazione dei comandi perché si presta bene anche per il pad eh control menu di pausa no non sono neanche tantissimi tasti dietro torniamo indietro e vediamo se riusciamo a fare un altro ehm un altro piccone per fare il piccone bisogna qua si chiama isola del sveglio perché ci siamo risvegliati qui ehm fare del legno e vedete questo è il tavolo quindi risorse possiamo fare anche i lingotti di pietra spettacolo allora vedete perché poi per fare i tavoli da lavoro possiamo dobbiamo fare la fornaccia le fornacce ci servono 6 e 4 o no allora intanto facciamo il piccone il lingotto di legno ne ho fatti 3 vediamo piccone ok me lo equipaggi subito Francis perché voglio andare a scavare ma c'è anche un forziere lì quindi dobbiamo andarci velocemente sperando di trovarci anche del carbone intanto vediamo cosa c'è qua dentro oh beh niente questo forziere è vuoto che chiavi voglio scavare questo io tengo premuto invece di cliccare in realtà ho trovato carbone? no sembrerebbe è rarissimo il carbone mannaggia perché credo che con la fornace poi si vada a creare del carbone usando la legna cioè almeno quello che mi aspetto da ogni survival è questo col macete possiamo battere gli alberi oh qua c'è qualcosa è ben già aperto è già aperto è qua dove siamo partiti quindi è ben già aperto praticamente tutto purtroppo il carbone non l'ho trovato facciamoci un po' di lingotti di pietra a questo punto tantissimi ne abbiamo fatti 18 gomitolo di fiori gomitolo di erba va bene blocchi vedete possiamo fare anche il blocco di pietra adesso perché poi ci si può costruire una casa insomma un rifugio si può fare il fidget spinner armatura selvaggia elmo cornuto armi badile torcia risorse tavoli da lavoro vediamo fornace e ci manca il carbone e non ho proprio idea di dove si trova il carbone vabbè intanto lingotto di legno ok ma tipo un altro piccolo lo possiamo fare il piccolo di pietra certo ok così appena si rompe andiamo a scavare dell'altro torniamo no torniamo su speriamo di trovare del carbone qui per farci una torcia andare a vedere che cosa c'è all'interno di quella di quel castello lì quindi ho fatto i fiammiferi ho sbagliato intanto non lo sta usando ho scavato si sta riempiendo eccezionale sta cosa non me lo sarei mai mai poi mai aspettato ma c'è te l'ha preso qualcun altro allora piccolo di pietra infatti da equipaggio no voglio darlo francis eh se li dividono loro allora dai a francis ok francis piccolo di pietra equipaggio ah non ha abbastanza forza eh ma scusatemi ma se non ha abbastanza forza equipaggialo a il johnny e taglialo tu scusa no perché poi il gioco si presta molto anche a un utilizzo ah ok sono un coglione si può cambiare con tab ah questo cambia tutto ok capito capito tutto adesso col tab era molto semplice lo sto demolendo però eh sto piccone ok ah qua si raccoglie roba da terra questi sassi sepolti si raccolgono bisogna capire se se c'è qualche se c'è qualche segno diciamo di presenza di carbone e io continuo a farne oh se sei forte ho pure tutto tu vabbè poi ovviamente ci mancano tizzi sembreremo i sette nani si è vero in effetti no in realtà io poi non è che voglio star qua a farvi vedere come va avanti come perché comunque ve lo voglio presentare bene perché lo trovo veramente una cosa ben ispirata e un appassionato di spaccare pietra renda più furbi si dice va bene no quanto è figo questo gioco perché cioè inutile è figo è figo fatto bene è fatto bene arriviamo al discorso prezzo lo potete prendere a 29 scusatemi 19 euro 11 euro se volete prenderla in più per il pass e il pass vi consente di accedere a quando usciranno a dei DLC 3 DLC abbastanza grossi dove la storia insomma continuerà calcolando che comunque potete crearvi gli edifici potete crearvi un sacco di cose direi che è un gran bel gioco questo e ovviamente resto in attesa poi dei vostri pareri nel caso in cui dovessimo fare il botto dovesse piacervi da morire ne faremo un altro e vedete questo sembra essere chi ha il badile? tu hai il badile? ma tu non trovi? va beh combattimento va siamo in 4 stavolta poteri la badilata stordente perché ha il badile ma poteri ah mannaggia non ce l'ho fatta ok vedete che gli oggetti bellissimi e si spostano si spostano si spostano e e vi consentono di di combattere per poi rimettersi dove erano ok dai forziere entrosore verde che non voglio sapere che cosa è cos'è faccio andare avanti il tizio col macete che proviamo ad andare a ovest non siamo mai andati a ovest a est scusate a est c'è un'altra isola che fa parte della zona iniziale dove dovremmo trovare qualcos'altro ok sono delle casse con dentro un po' di roba un messaggio in bottiglia che dice non fare affidamento a casse forziere per trovare la mia amatura se vuoi qualcosa dovrai craftarte le tabelle di lavoro le tabelle di lavoro trasformano le risorse che riescono i materiali si pannaggia vedete che si è spostato tutto il loro scenario scusami provo con il potere mazzata ok e gli butti giù il colo ok tu attacchi lo così lo uccidi tu potere mazzata le e tu potere badilata ma non puoi quindi attacchi normale e lo uccidi bene preso tutto abbiamo preso anche un po' di soldi insomma lì c'è un altro tavolo da lavoro e un altro un'altra zona di di accampamento insomma è molto importante all'inizio raccogliere tutto quello che troviamo a livello di leniamo perché è tutto utile tutto fa barodo c'è qualcosa lì che mi inquieta assai vediamo un po' che cos'è devi accendere ancora due torce per aprirmi ah certo no no fiammifero magico o cioè fiammifero sì quelli lì magici è un'arma magica ok non si può aprire intanto andiamo a vedere cosa sono questi prendo intanto se li stanno dividendo loro i contenuti del forziere dovrei fare prendi tutto ma vabbè ok andiamo andiamo di qua sta diventando anche buio quindi c'è un forzierino lì vediamo se possiamo aprirlo di lato sì l'ingotto di conchiglie queste petalo floreale e una perla siano già due perle adesso c'è un po' di gente qua eh un po' di gentaglia qua diventerà un accampamento appena dormiamo qua si possono prendere altre altre bacche da mangiare ok e qua c'è un falò con un un altro tavolo da lavoro questo è vuoto questo c'è dentro un po' di roba e va bene poi vediamo un po' dovremmo esplorare oh di nuovo un altro combattimento facciamo con poteri questo gioco è stato un'autentica sorpresa perché il il franchise diciamo lo conoscevo sapevo anche che erano italiani ma il fatto che abbiano introdotto una cosa survival mi piace molto anche perché io adoro tutto quello che è il nerd il mondo nerd allora qua possiamo potenziare Francis con una di queste abilità qua che sono la classica forza allora Francis alla fine lo continuano a potenziare con questo eh così si prende la stellina ok scegli talent prendiamo un talento così questo è un coltello micciata sempre accesa ottieni le istruzioni per la micciata oppure per il coltello io prendo il coltello ok è livellato solo lui però vabbè allora ragazzi allora questo era Doom's Doom scusate senza la S Doom and Destiny Worlds eh fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao